Allora, sull'emissione va l'opportunità per dare molte prestazioni. Questa è veramente la che utilizziamo come commissione e se è una commissione dobbiamo ci dà l'articolo 38,6 che ci dice, quando lo statuto lo prevede, il consiglio si appare le commissioni costituite al proprio seno, con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e le disciplina di organizzazione e le forme di pubblicità. Il nostro statuto all'articolo 35 prevede l'istituzione della commissione pari opportunità. Essere un organo del consiglio non è possibile che come previsto dall'articolo 4 sempre del regolamento proposto all'ordine del giorno sulla commissione pari opportunità che sia l'aggiunta comunale a nominarla e se possibile è possibile che sia un'assessore delegato che provvede nel senso dell'articolo 4 a comunale a visi pubblici circa la modalità di presentazione delle proposte di gabinetto esterne al consiglio. controverso appare anche l'articolo 4,6 al punto 4 dove dice che la commissione può procedere a modifiche del regolamento pur avendo rinquistare gli affondamenti. prego, 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 professore Santurino, prego, 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 il signor Vignana per il testo il consiglio è saputo il professor Satpito prego il consiglio è il niente prego allora tutto un anno premesso la legge non consente la legge non consente io posso farvi dire questo è una salta ha un genitore un altro che non ha più di me professore è stato un livello un signore 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 vai a denunciare un certo di pace vai a denunciare se hai testi modi visto che le testi vengono faccio india stare at at faccio india staremo allora allora qual è l'organo del consiglio comunale questa commissione che si sta che si vuole istituire non lo pronominare e scegliere sia i consiglieri di maggioranza che le opposizioni che ne fanno parte invece queste funzioni sono riservate al Presidente del Consiglio e al Consiglio stesso con metodo democratico e votazioni, questo previsto per altre parti specie premesso che la legge non consente l'istituzione di commissioni liste tra consiglieri eletti e componenti ospedali del Consiglio mi sottolineo il parere del suo evento sulle questioni simile creata sia il Comune di Bolla che abbiamo affrontato come Movimento 5 Stelle nel Comune di Bolla infatti il regolamento comunale addirittura consentiva l'istituzione di commissioni liste e il Movimento 5 Stelle, la figura del portavoce del Consiglio Comunale di Bolla ha interpretato il segretario generale del regolamento circa di facintilità di tale previsione regolamentare il segretario generale con un angolo con un parere favorevole all'accorrimento della situazione sottolata scriveva al prefetto il quale confermava con un programma del parere del segretario invitando il Comune di Bolla ad appoggiare a modificare questa regola del regolamento questa non è una regola del parere a questo proposito vi avendo tutta la documentazione presentata e anche il quale del prevento e sostanzialmente in base all'articolo 38,7 che prevede che le commissioni in quanto organismi in termini al Consiglio non possono essere istituite con concorrenti estendi al Consiglio spesso io ve la leggo questo e qual è l'utilizzo a me la parlate grazie 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 grazie